Nessuno vede il mondo come lo vedi tu. Noi di Zeiss ti aiutiamo a vederlo meglio. Lenti con campi di visione più ampi per espandere i tuoi orizzonti. Più piatte e sottili. E con protezione completa dai raggi UV senza scolirsi. Perché i tuoi occhi meritano cura. Scoprile nei centri ottici Zeiss.